Allora, io preferisco giocare quattro Leyland, non sono troppe. Curiosità. Nico, da quanto tempo giochi a Magic? Curiosità. Non è per ridicolizzarti, è per capire se la domanda è troll o se è reale. Sono curioso. Quattro, ok. Allora, se non mi stai trovando ti rispondo. Questa e in generale le Leyline sono forti perché se ce l'hai in mano iniziale va direttamente sul campo di battaglia. Quindi o ne giochi quattro o non le giochi. Meno di quattro non ha senso. Nel caso di questa nemmeno quattro ha senso, questa proprio fa schifo. Questo secondo me è sto mazzo. Però, tanto adesso vediamo. Però di base, se le giochi, le giochi quattro. Giocarne meno di quattro è sbagliato, a meno che meno di quattro non sia zero. Quindi ti ho risposto. Ragazzi, mi costerà quattro wildcard sto giochetto, eh? Certo che sono pescate morte. Allora, cioè, è infatti il motivo per cui non li gioco sti mazzi. Cioè, la cosa che mi fa ridere è che lei, Nico, lei gioca da quattro mesi a Magic, ma ne sa più di Magic di un sacco di gente che si spaccia per fenomeno. Perché quel commento che tu hai fatto adesso è il motivo per cui questa leyline fa schifo. E l'ha capito Nico, che gioca da quattro mesi. L'ha capito Nico che gioca da quattro mesi. Con la domanda dell'innocenza. Il re nudo, il bambino che è nella favola dei vestiti dell'imperatore, dice la cosa più ingenua, la cosa più genuina, e dice la cosa giusta. Questa, infatti, è una cazzata sta leyline. Però, io, visto che prima di criticare, voglio verificare, lo voglio giocare. Perché ho tutto tranne questa, la giochiamo. Però, no, solo che non mi convince a me il Challenger solo in due per. Cioè, il topo si gioca. Se giochi a sessantaquattro carte. Dai, giochiamolo. Ragazzi, lo sto facendo per voi. Ricordatevi questo momento. Ricordatevi questo momento. Per la scienza. Eccolo. 100% win rate. John, te lo dico. Non iniziare. Devi malligare a due, devi malligare a tre. Non iniziamo. Non mi fai incazzare stasera, eh. Non mi fai incazzare stasera. Sì, Jack, te lo consiglio il grull. Te lo consiglio, te lo consiglio. John, comportati bene. Che già mi devo incazzare per giocare a sto mazzo. Se sento che devo hard malligare. Se sento che devo hard malligare per trovare quella carta. Qual è l'artefatto rosso costo 1? Come si chiama? In inglese. Ah, la scimmia, no? Sono meglio queste. È meglio la Switzpear, no? Sono meglio questi. In questo mazzo, secondo me. In questo mazzo sono meglio. Perché fanno più danni. Sono più veloci. Se l'obiettivo è la velocità. Queste sono più veloci. Perché fanno... Cioè, si gonfiano, fanno casino. Secondo me la scimmia è peggio di queste. Vabbè. Ho crappato sta merda. Giochiamolo. John Micidial ha il 100% di wear rate. Ciao Alessio. Allora. No, aspetta. Devo mettere la leyline, però. Che non si può mettere. Vabbè. Andiamo. Andiamo. Attenzione. 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 Keep. Submit. attenzione lui è uguale ma non ha la leyline attenzione io parto con questo non ci posso credere 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 ma non ho vinto non ho vinto ragazzi mi è arrivata una foto su instagram vi dico solo questo ho sbagliato se attacchai prima era l'ital come avevo vinto scusate come avevo vinto scusate ma non erano giusti ah il turno dopo va bene non era qua non era chiusura turno 2 non era mai chiusa vabbè decliniamo no ragazzi allora non ho capito il gioco cioè in che senso come facevo a fare 21 danni il topo l'ho pescato dopo vabbè qua ha vinto lui no se ho sbagliato va bene ma dove ho sbagliato cioè come facevo a fare in un sette di attacco sette con fling avete ragione questa comunque è chiusura qui ho sbagliato io ma questa era turno 2 qua ho sbagliato io ma questa era chiusura turno 2 quindi vale cioè perché ho sbagliato io ma questa era turno 2 avevo scombato di secondo avevo scombato di secondo questa vale questa è vittoria turno 2 non ho vinto per colpa mia ma questa era vinta turno 2 assolutamente era vinta turno 2 era vinta turno 2 io ho sbagliato ma non è che siccome io ho sbagliato non vale è turno 2 1 a 0 per john micidial 1 a 0 per john micidial 1 a 0 per john micidial sì sì ma per me vale cioè vale cioè io questa non la mallico ragazzi io questa non la mallico cioè cazzo me ne frega di mallicarla io questa non la mallico cioè me ne frega della leyline cioè c'è una mano perfetta non la mallico cazzo me ne frega sarete d'accordo tutti secondo me cioè questa non la mallico io cioè questa si tiene che cazzo sti cazzi la leyline ricordiamo che la probabilità di avere leyline sweet spear qua chissà che cos'è la redenzione di john allora di sicuro ha più probabilità questo che da ritorno 2 di quello di quell'altro la dei animator ciao neggi questo c'è la rimozione no 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 è 39 e 9 è 39 e 95 ho fatto i calcoli oggi declino vai se me lo spacca faccio questo che faccio pezzo no turno 1 e 39 35 guarda secondo me monored è l'unica di giocare da giocare così in eci almeno per il momento in standard non ha senso giocare in altro mazzo secondo me almeno questo è il mazzo che è più forte sicuramente ok qua facciamo il devasto no qua sto baitando il removal ci provo no non ha senso non ha senso ok e allora a sto punto lui lui faccio più danni possibile faccio più danni possibile ok sì ho giocato un po' intorno ragazzi anche perché siamo messi bene poi capiamoci ok ok comunque è arrivata davvero una foto su instagram non stavo scherzando poi dopo quindi ci sarà un altro episodio perché mi è arrivata una foto della vicina su instagram non ho ancora visto la foto però ho visto che si può visualizzare solo una volta quindi questa qua sta guardando la live secondo me a sto punto non c'è altra spiegazione senti devo bene vai ma che è questo un mono blu tempo vicino a dici no ve lo giuro ragazzi foto temporanea su instagram ve lo dico ve lo giuro fidatevi foto temporanea su instagram sto morendo ragazzi sto morendo proprio sto morendo proprio ok si è tappato si è tappato si è tappato letal come bastano attaccare letal non c'era un altro modo di fare letal qua si sparo il doppio ma non ce la facevo comunque erano 3 più 3 6 o sbaglio così era più certo forse oppure c'era anche l'altro modo non lo so allora qui non abbiamo visto la leyline ma abbiamo vinto vai vabbè il mazzo è forte cioè in best of one secondo me è proprio forte best of one è proprio forte forte secondo me qua non c'è la leyline ma è keep lui cerca la leyline eh sì il best of one fa schifo però vabbè volevo solo cioè voglio provare capito ecco lui ce l'ha concordo sul best of one che faccia schifo però e l'avevi visto però non c'era la leyline vai qua lui deve stare attento perché questo spara a doppio oppure deve rimuoverlo o non vince adesso grande pomodoro vinto non ha vinto se non ha la terra non ha vinto non ha la terra eh no eh non ha vinto non ha vinto e mi sa che abbiamo vinto noi però abbiamo vinto noi e che bellezza che bello magic ciao generazione x ciao caro quindi 3-0 perché la prima l'ho persa perché ho sbagliato 3-0 colpo di scena 3-0 magic è diventato un gioco meraviglioso proprio bello tanto eh magic è diventato il gioco più bello del mondo poi ragazzi devo rispondere alla vicina di casa ricordatemi che devo rispondere alla vicina di casa best of one non è magic è vero però questo mazzo volevo provarlo in best of one perché secondo me in best of one è meglio quindi dal punto di vista di ciò eh vabbè qua qua che dobbiamo fare cioè boh ma sembra scriptato sto gioco adesso cioè topo altro topo sleesh shot lui non parte di leyline mmm boh io metto lo sleesh cazzo mene se blocca me ne frego se blocca me ne frego questo è quello che diceva amicidial sai che forse vince lui qua allora qua sono 8 9 non è vinta perché questi sono 4 5 6 7 8 9 10 non è vinta non è vinta facciamo così vai cioè mi sento un po' che sto girando la ruota della fortuna capito se da trampol gliel'ha dato gli da trampol non è trampol ok se lo scoppio ha vinto lui infatti devo farlo adesso perché se aveva la source rivinceva quindi ero costretto a fare così perché se avesse avuto vabbè lo può fare lo stesso ciao slader caro si vince lo stesso è uguale vabbè qui senza leyline vabbè qua non si poteva fare niente ciao alex buonasera caro andiamo avanti siamo contiamo qui contiamo facciamo le persone studiate testo no no vabbè facciamo questo siamo 3-1 no questo è malligan oddio drop a 1 drop a 2 no non la mallico questa c'è curva sopra leyline secondo me mani basse no mani basse no però topo che c'hai torna in mano va bene va bene questo è counter secondo me no vai ok ma questo che cos'è a zorius tempo tipo dai ben gfp ve li meritate plate of end ok ah questo è reanimator ciao bisetta non ha vratta lui io ce l'ho giocava a testo mazzo se non gioca vratta e gioco lo scampo non lo sapete vabbè scampo sti cazzo ando me lo counter se non ha vratta me lo counter no ma questo mi sembra monotempo e se monotempo non sta messo benissimo se non gioca vratta a zorius tempo contro monored dove va no se è tempo e non ha vratta non è che può fa troppo o qua no magari cioè contro contro sono forti stimarsi ok ok qua c'è il rimbalzino qua c'è il rimbalzino non lo sapere non lo sapere non lo sapere che cosa strana diamo trampol pure a questa qua c'è un rimbalzino sullo shoff secondo me madonna pesca ti sei persa aggiornamenti decisivi sulla vicina decisivi solo che la chat continua a non darmi ragione sulla mia opinione sulla vicina cioè sta cosa mi lascia molto intristito lo sapevo che c'era un rimbalzino sto stronzo però non è che ci va così male decisivi sviluppi decisivi eh sì ti tocca rivedere il VOD a uno lo lasciamo mica ha vinto sì secondo me mi ha cioè in realtà non dico mi ha frenzonato perché non avevo nessun interesse io quindi non mi ha frenzonato perché frenzonato è se io ho interesse se non ho interesse però dopo gli aggiornamenti di oggi anche i più scettici secondo me hanno capito ma sbaglio lui ha perso chiedo per un amico che cosa può succedere per non perdere lui è a uno che può fa no c'è questa merda va bene blocca blocca non ha trampol questo no lei non aveva lei non aveva ragazzi lei non aveva nessun interesse ai miei confronti questa è la realtà solo che voi siete volete per forza vedere quello che non c'è non ho l'italmai qua no però non sta messo benissimo lui secondo me qui eh non sta messo benissimissimissimo beh grande Evan vedi che qualcuno ragiona non ho fatto una figa di lei ragazzi cioè se la ragazza ti parla dell'ex di quello che gli piace di quello che le piace ti fa andare all'appuntamento con quello che le piace poi adesso devo vedere su Instagram la foto che ho mandato eh su questo sì dobbiamo vedere su Instagram a fine live guardo il messaggio su Instagram e magari ci sarà un'altra puntata domani allora se questa spell se questa spell è un rimbalzino però sei fortissimo perché qui è un danno giusto avrebbe già concesso è un rimbalzino questa sì madonna no esatto pesca però ci sono altri due ci sono due puntate che ti sei persa ieri sera c'è stata una puntata e poi ieri dopo la live mi ha scritto sono stato un appuntamento perché voleva incontrare il suo ragazzo cioè cose bellissime oh non riusciamo a vincere contro questo è importante l'orecchino è importante anche tu lo cerchi anche tu lo cerchi diciamo chiedi di essere aiutata dai questo cioè ce l'ha fatta vincere non ci posso credere ce l'ha fatta vincere no in realtà eh ok no ha concesso perché spaccavo questo e si attaccando vincevo sì per oggi ho fatto il recap della puntata di ieri qui ci siamo cioè praticamente oggi cos'è che è successo puoi recuperarla per oggi cos'è che è successo oggi è successo no ieri dopo la live oggi mi ha mandato una foto su instagram visualizzabile solo una volta quindi intanto 4-1 quindi questa cosa qui poi la dobbiamo approfondire quindi domani e mispesca che mi ha mandato purtroppo no mispesca non mi ha mai mandato una cazzo di foto mai quindi no niente foto da mispesca purtroppo niente foto da mispesca meglio così eh perché già c'è la vicina poi troppe foto mi finisce internet troppe foto poi internet cioè finiscono i giga quindi meglio te le mando io vai evan voglio una tua foto voglio una tua foto adesso quindi c'è puntata decisiva appuntamento con la vicina l'ho accompagnata all'appuntamento mentre doveva incontrare questo tipo dopo la lela è impossibile no è gente cioè qui ci sono degli aggiornamenti importantissimi sì allora ah vedi che bellezza cosa è diventato magic cosa è diventato magic che bel gioco è un gioco bellissimo ok no facciamo così facciamo così eh la vicina mi ha frenzonato no qua non mi conviene no declina sì tra l'altro io io ho detto secondo me la vicina ci è rimasta male perché quell'altro ragazzo che le piace rispetto al suo fidanzato perché lei ricordiamoci che in tutto questo è fidanzata in tutto ciò quell'altro ragazzo che le piace ieri non si è presentato all'appuntamento e lei mi ha chiesto di accompagnarla all'appuntamento con questo ragazzo e non si è presentato quindi ci è rimasto malissimo questo questa non la vincevo mai questa non la vincevo mai che pure è il doppio qua non è vincibile questa allora potrei fare no non lo faccio penso sia persa questa qua vabbè penso sia persa la vicina pensavo che fossi Chad invece sei un nerd profumato e quello secondo me è il problema perché lei era abituata ai giocatori di magic che sapete a cosa mi rifreghisco lo sapete tutti perché se siete stati in un negozio di magic sapete a cosa mi rifreghisco sui giocatori di magic e quindi lei si aspettava quel tipo di di persona ho perso in tutto ciò 4 2 tocca o solo john c'ha il 100% di win rate comunque alla fine lei la ne è salita una sola volta ma infatti noi stiamo vincendo però secondo me non è che vinceva per la leyline cioè è un'aggiunta al mazzo farò un bellissimo video su youtube e ho usato 4 wildcard però è molto a culo secondo me questo mazzo è molto a culo sì infatti giriamo giriamo tutto no questo è un questo è un questo è un decisamente un malican questo è un malican no per quella per la vicina ci sono i vod quindi quello solo un'esclusiva per twitch ma ripeto la vicina mi ha mandato una foto su instagram visualizzabile solo una volta io a fine live guarderò quella foto e ci sarà forse una nuova puntata domani quindi abbiamo materiale per un'altra puntata perché c'è questa foto e no l'apro dopo perché se l'apro adesso poi lei vuole messaggiare io non posso quindi vi svelo sto trucco cioè rispondete a questo tipo di messaggi solo quando potete dare attenzione perché se no adesso l'apro non rispondo e quindi lei ci rimane male quindi l'apro dopo malligan e dai su doppia leyline una la tolgo mmm io tengo questa io tengo questa e che te che tolgo le terre scusa tanto queste li pesco questo c'ha questo mi toglie la leyline adesso no ah vedi come si spaventa però lui mmm no shoff vai ma questa canzone non è fedez no virtù monasteri qua peschiamo due volte qua peschiamo due volte giusto qua peschiamo due no per forza ma godo cazzo vai qual è una storia ancora più vera di questa ci sono anche lì degli sviluppi pesca sviluppi anche lì un po' un po' più tristi però in questo caso quindi però userò il content per un'altra volta no shooldred shooldred ho vinto ho vinto ho vinto raga no non ho vinto ma sai che ho vinto forse non voglio contare un cazzo si posso dare trampol non voglio contare niente non ho vinto però secondo me però deve bloccare secondo me vediamo si si apri telegram vinci in che senso attacchiamo lui adesso qui blocca perché si spaventa io pesco due carte se hai metto un sacco di pupazzi mamma mia vai vedi qua faccio 18 pezzi però qui telegram ragazzi miss pesca mi ha mandato una foto che noto di istruzione la sto aprendo pesca l'apro addirittura questa non la mostriamo questa non la mostriamo a nessuno questa non la mostriamo a nessuno spero che la foto della vicina sia così e non e non più esagerata lasciamo intendere non blocco oddio che può succedere niente passano perché quella di pesca ragazzi è una foto esageratissima quindi dico quella della vicina spero non sia così perché se no cioè mi dispiace poi capito beh qua oppure ingiustificate un attimo mi devo concentrare un attimo qua perché credo di aver vinto così 5 3 qui è vinta è vinta è vinta è vinta no dicevamo la vicina adesso non allora quella di pesca l'ho aperta perché pensavo fosse un troll cosa che è quella della vicina non posso aprirla perché ripeto se apro la foto della vicina ovviamente lei vede che ho visualizzato al netto che se non è sta seguendo la live perché questa qua mi stalkerà su instagram quindi avrà visto che sto seguendo la live 5 2 ho capito scusa la pesca fammi pure ammetto quella di pesca era esageratissima ragazzi io non posso farvela vedere se volete vedere foto simili di mispesca dovete usare pagare l'ultimo livello del suo patreon penso che sia l'unica penso che sia l'unica per foto del genere è l'unico modo ti faccio pure pubblicità al patreon cioè non so se mi spiego malligan oh ma sta l'elan la prendiamo sempre comunque tengo questa minchia red lei è giustamente un uomo d'altri tempi fa bene fa bene qui mettiamo il topo cut down vai vai evan vai al patreon di mispesca eh no eh no pesca così no pensavo fosse una foto solo per me se è per tutti no allora mi offendo pensavo fosse una foto solo per me allora no non va bene non va bene non va bene no così non va bene mi hai spezzato mi hai spezzato il cuore così pensavo fosse una foto fatta apposta per me in questo momento ciao marcus caro eh mi hai illuso adesso non va più bene adesso non va più bene slitchhot mi spruggi io penso che questa chat è una cosa è una cosa bellissima no perché ormai non mi fido più di te cioè la fiducia è un qualcosa che poi una volta che la perdi poi è difficilissimo ottenerla quindi adesso non mi fido più quindi no non la voglio non la voglio più non voglio più foto basta sono rimasto male adesso no non c'è nulla che mi possa far rimanere meglio qua si prende lo ecco infatti è una storia bellissima allora vediamo un po' mica questo c'è un cut down e poi devo guardare la vicina quella sarà decisiva no non posso non posso vai oh ma in tutto questo ragazzi tra le vicine mi spesca le foto però vi rendete conto che noi stiamo giocando la leyline e stiamo 5-2 cioè non so se mi spiego 5-2 stiamo ciao ciao Valerione come stai ciao questa canzone prima che Chiara Ferranni scammasse col col panettone quando ancora la gente lo voleva la voleva avere come collaborazione stressato pure un botto ecate pure qua stai a dirmi canotto qua ci guardiamo in faccia vai poi vi posso dire una cosa il best of one fa schifo però è proprio bruttissimo il best of one cioè adesso o rischio una volta ma lì c'è rimuva qui ma tu c'hai i removal John cioè aspetto di trovare almeno la carta che mi dà più 2 più 2 cioè sennò che cosa facciamo siamo punti da capo lui ne ha almeno più di lui ha più di un removal secondo me poi dopo lo facciamo se vuoi però è difficile che lui non abbia dei cut down vabbè adesso lo si fa eh no ma lo faccio eh però qua ci becchiamo due removal non uno oh ecate mi dispiace che sei spero tu stia meglio spero non sia grave più che altro ok cut down no ho sbagliato tra l'altro va bene ha due quindi no ne ha due potevo fare l'altro ma tanto a doppio removal cioè potevo fare l'altro per salvare questi ma avete vedi che sta pensando se fare la faceva comunque l'altro eh vabbè sì sì lo posso salvare questo eh lo salviamo però vediamo vai vabbè Liliana Epistrelli che è qua il festival no vabbè come fai a stare sul 100% di win rate comunque John per curiosità comunque mi sembra un mazzo che soffra molto la varianza questo in tutto ciò secondo me questo è un mazzo sul 55 60% di win rate non lo vedo anche perché lo giocano pure gli altri quindi non lo vedo non lo vedo un mazzo particolare perché anche gli altri lo stanno giocando no non è game changer nico assolutamente no confermo non è game changer ho usato 4 wild questi calazzi ok cioè vedete anche quando ce l'abbiamo comunque cioè si sta attrezzando il meta vabbè posso dire una cosa questa la posso dire cioè tutte le varie cose banno turno 1 ma qui non è question di livello dei player cioè qua si tratta vedi qua si tratta del fatto che è un mazzo che ha dei problemi qua devo pescare cioè è un mazzo che vive di una varianza e quindi adesso ecco non è nemmeno così divertente secondo me tra l'altro ma però almeno adesso abbiamo poi dopo poi facciamo anche un recap dei calcoli matematici comunque facciamo un recap dei calcoli matematici che ho fatto oggi perché oggi ho calcolato con la funzione geometrica abbiamo calcolato esattamente la probabilità che questo mazzo qui abbia la leyline lo dico per youtube perché così facciamo un discorso un po' più un po' più profondo questa è presente persa questa è persa 5-4 siamo sulla win rate che dicevo cioè 55% 60% se gira molto bene prendiamo un po' di evidenze prendiamo un po' di evidenze allora un attimo che facciamo tutto il discorso allora oggi ho calcolato la probabilità esatta di avere la leyline turno 1 in mano quindi cosa significa questo ho calcolato la probabilità che dato un mazzo di 60 carte dato una presenza di 4 copie della leyline qual è la probabilità anti-malligan di avere la leyline sul campo di battaglia turno 1 questo è il primo passo della dimostrazione allora abbiamo usato chiaramente la funzione la formula ipergeometrica per andare a calcolare la probabilità quindi giusto per dare una definizione la probabilità la probabilità p di k di pescare k carte di un certo tipo in amore di 7 carte quindi premessa 7 carte anti-malligan nel mazzo ci sono n carte totali di cui k è il tipo della carta che sto cercando quindi la distribuzione ipergeometrica è p di k per n su k n-k n-k n su n quindi questa è la base n è uguale a 60 perché n sono 60 le carte del mazzo k è 4 per obvi motivi quindi 4 sono le copie della carta della leyline presenti nel mazzo n è 7 quindi n quindi non so se vi è tutto chiaro quindi le variabili sono tutte note perché dico questo è importante questo discorso qua le variabili sono note quindi la probabilità è calcolabile perché io ho visto cioè ho sentito di gente che stava sperimentando quante volte la leyline viene è presente in mano iniziale questa cosa qui non ha senso farla perché è come se io lanciassi 10 volte una moneta per dimostrare che testa e croce hanno il 50% ciascuno e mi esce 7 su 10 testa e quindi dico no è 70% la probabilità non è così le variabili sono tutte note quindi in questo modo è facile calcolare la probabilità ovviamente andiamo a sostituire i numeri alla formula e quindi abbiamo P di 0 uguale 4 su 0 per 56 su 7 fratto 60 su 7 ovviamente P è almeno una volta per chi non capisce di statistica sembrerà una cosa strana però la funzione è un calcolo molto semplice questo è statistica cosa abbiamo? abbiamo che la probabilità di avere almeno una copia della carta presente in 4 copie in un mazzo di 60 carte pescando 7 carte nella maglia iniziale è di non è un numero periodico l'ho abbreviato in 39,95% in realtà è maggiore periodico ok? che significa maggiore periodico? non è arrotondabile a 96 siamo su 95 meno del 5 come terzo numero decimale quindi è 39,95 questo di base quindi questo è il calcolo cosa significa? andando a parlare in modo pratico su 10 partite circa 4 partite ante malligan avremo la leyline in prima mano e finirà sul campo di battaglia ok? quindi in 6 partite su 10 questa cosa non avviene e di conseguenza la leyline diventa una carta morta nel mazzo attenzione quindi 4 partite su 10 non ho garanzia di vincere perché come abbiamo visto anche nel video visto che questo è per youtube che lo sto facendo non dà garanzia di vincere poi vediamo anche tutti il messaggio di John la cosa più bella è il messaggio ecate la cosa più bella è il messaggio di John che dopo che io faccio tutto il calcolo matematico con la funzione ipergeometrica John mi viene a scrivere sto testando il nuovo aggro è da provare ragazzi con lei io ragazzi non ce la faccio anche i standard quindi qui abbiamo l'ordine e il disordine no cioè tipo l'entropia qua esplode infatti poi arriviamo da lei poi arriviamo però cioè questa scena è divertente ragazzi fatevi un tatuaggio con sta roba cioè anche perché ha scritto in contemporanea ha scritto in contemporanea cioè io ho scritto questo messaggio e lui ha mandato questo in contemporanea quindi vabbè quindi 39,95% di avere la leyline in mano poi nel cartaceo la gente si aggiusta le carte se le mischi a casa quindi c'è più probabilità sti gran cazzi questa è la probabilità reale ora che cosa significa che abbiamo il 40% di vincere no perché stiamo parlando di un mazzo aggro a base creature non di un mazzo combo quindi non è una win card situation non è one card win perché cioè come abbiamo visto avere la leyline non ti dà garanzia di vittoria allora qua beh ci sono tutti i vari discorsi è intervenuto è intervenuto dev che ha perfezionato cioè ha aggiunto al mio calcolo perché non l'ho fatto non mandava cioè mi sono limitato alla funzione per geometrica giustamente lui mi dice che con il malligan la probabilità sale ed è vero poi l'ho fatto anche io questo calcolo e l'ho verificato quindi 39,95% ricordatevi quel numero e se non si malliga se si malliga con un malligan la probabilità lui l'ha rotondata perché qui dovrebbe essere non per 0,4 caro dev scusami ma sono pignolo su ste cose dovrebbe essere 0,39 e mezzo per 0,39 e mezzo quindi vabbè leggermente sarà più bassa però diciamo sarebbe 63% virgola qualcosa però va bene 64% dopo un malligan andando a fare doppio malligan andiamo a 93,6% anche qui ovviamente è una stima per eccesso perché questo perché dev ha arrotondato in modo secondo me inesatto io adesso non ho voglia di rifare il calcolo però qui sarebbe nella formula 1 meno perché 1 meno perché siamo nel caso p0 quindi 1 meno 0,39 virgola quindi 0,395 per 0,395 lo specifico perché magari su youtube la gente dice ma perché 0,4 non so se nessuno qualcuno farà questo commento io lo farei però va bene però cosa è che sappiamo che 40% arrotondando ante malligan 64 malligan a 6 considerando il london malligan 93,6 malligan a 5 quindi questo è il discorso adesso qual è però la cosa principale di tutto il fulcro di tutto è che ovviamente essendo un mazzo a base creatura che ha bisogno perché necessita quanto meno dov'è l'altro calcolo qui necessita quanto meno una mano non solo della leyline ma necessita di un numero sufficiente di terre è almeno di una creatura e una spell vi è chiaro fino adesso il concetto perché è fondamentale questo discorso abbiamo calcolato grazie a sguillo che dato tutto l'assioma iniziale che possiamo dare per certo e dato il fatto che almeno servono due terre per avere una mano accettabile quella situazione della leyline più le due terre dà ante malligan un 21,72% ok questo senza considerare il fatto che le altre spell devono essere non altre leyline non solo spell e non solo creature ora io ho fatto ho fatto un calcolo spannometrico se si malliga se non si malliga la probabilità di avere una mano accettabile quindi con almeno due terre creature spell e leyline dovremmo essere intorno al 16,50% quindi cosa significa che è estremamente difficile 16% non è pochissimo però è difficile ovviamente con una lista che conta almeno 12 spell e quant'altro quindi ricapitolando abbiamo un 16% di possibilità di avere la leyline in mano che va sul campo di battaglia turno 1 almeno due lande e almeno una spell è una creatura quindi siamo sul 16% adesso cosa però qual è l'altro discorso che va fatto voi direte Luigi ma 16% non è pochissimo non è pochissimo è vero però non vi dimenticate che per vincere l'oppo non deve avere interazione quindi abbiamo esatto Dalai Lama quindi questo discorso è in un mondo ipotetico in cui noi stiamo giocando contro il mazzo base monoverde ok contro sparchi nella realtà però gli opponent hanno le interazioni soprattutto io ho aggiunto una cosa allora qui il calcolo è stato fatto se oppo ha almeno 7 interazioni nel mazzo la probabilità di avere un'interazione nella mania iniziale è del 65,36% che è una probabilità molto alta quindi dobbiamo andare sul 16% andare a fare una correlazione che non andrò a fare perché non mi va sul 65% però di base possiamo arrotondare al fatto che è fratto 3 quindi questa situazione avviene di meno in realtà comunque siamo sul 5,8 1,9% delle volte che noi abbiamo la mano e oppo non ha interazione nella mania iniziale andrebbe calcolato anche che oppo non deve pescare interazione nell'ottava carta quindi qua secondo me infatti ha messo anche lui 8 quindi è perfetto qual è il discorso? il discorso è che se un mazzo del genere dovesse prendere piede ovviamente gli opponent non giocano 7 interazioni ma ne giocano almeno 10 giocandone 10 la probabilità di averla in mania iniziale sale ad oltre il 75% cosa significa? che in 3 partite su 4 esiste questa situazione non c'è molto altro da dire facciamo un piccolo recap se giochi contro spacchi e hai la mano dipinta hai una probabilità del 16% di poter vincere turno 2 o turno 3 in un mondo ideale questa cosa qui è infattibile quindi chiunque vi dica che chiunque vi dicesse che questa lela è nè da ban voi dite linkatevi il mio video e dite no perché Luigi ha fatto che è un master in statistica ha fatto il calcolo preciso e ha dimostrato che non è così e che le probabilità sono queste e quindi tenetevi questa leyline non craftatela abbiamo anche i gameplay di dimostrazione qui tutti contenti tutti felici se volete vedere tutti i calcoli e le dimostrazioni sezione chiacchiere magic sul discord link in descrizione di youtube e il messaggio più bello ovviamente rimane quello sto testando il nuovo aggro è da provare ragazzi con l'elain in mano anche i standard chiudi t3 t4 al 100% cioè non al 90% non all'80% non al 70% al 100% al 100% che bello ragazzi il mondo è bellissimo io sono innamorato del mondo il mondo è un posto bellissimo 100% che bello ragazzi